In studio dicono Bomber, Cialanoglu, effettivamente così non ti fermi più, Hakan? Bomber sono Lautaro e Dzeko. Io volevo fare solo assist, però sono contento che ho fatto gol oggi anche. Abbiamo dominato oggi contro Cagliari. Abbiamo giocato molto bene contro la squadra che stanno dietro e difendono molto bene. Sì, eravamo molto pericolosi quando eravamo a palla sul contrattato, però noi eravamo sempre precisi e abbiamo giocato molto bene. Hakan, cosa è successo dopo il derby? Perché l'Inter giocava bene, tu giocavi bene, ma da quel momento in poi stiamo avendo una squadra dominante. Abbiamo chiesto anche un po' ai tifosi e nessuno ricorda un'Inter così bella che riesca a giocare così bene e a dominare all'inizio e alla fine. No, secondo me anche prima del Milan hanno giocato bene, era Juve, Odinese, con le partite. Poi ho continuato di lavorare, dare il massimo per la squadra, per il club. Io faccio solo il mio lavoro sul campo, grazie ai staff che hanno aiutato tanto in questo modo. Che gioca adesso mezza ala, sono contento in questo ruolo. Io e Broso e Barella stiamo facendo molto bene, siamo veramente in campo, noi sentiamo molto bene. Su palla a possesso siamo veramente forti, anche da dietro giochiamo molto bene. Alla fine i risultati arrivano da solo sempre. Hakan, a che velocità andava il tuo tiro quando hai segnato? Non lo so, veramente non lo so. Dovete cercare voi. Studio, domanda per Hakan. Ciao Hakan, complimenti per la vittoria, per il gol, è incredibile. Grazie. Volevo chiederti questo, quanto ti diverti a giocare in quella posizione? Quanto ti piace in questo momento ricoprire quel ruolo? Perché mi sembra che sei ancora di più nel vivo del gioco, stai diventando veramente un centrocampista quasi completo a 360 gradi, non solo con la tua qualità che hai sempre avuto, ma anche in fase difensiva, di interdizione. Sembra veramente che quasi che ti trovi meglio a giocare in quelle posizioni rispetto a quello che hai sempre stato abituato a fare magari in passato. Sì, hai ragione, grazie. No, mi sento veramente molto bene in questo ruolo perché se io c'è la palla avanti sulla porta mi sento molto bene perché c'è sempre posizione che deve aiutare la squadra con i passaggi, con il mio pallone che sempre mette sullo spazio. Come ha detto Treppi e te prima, mi sento molto bene perché io devo avere sempre la palla sui miei piedi perché così sono più pericoloso. Anche un'ultima domanda, ci sono i sorteggi di Champions League, sei squadre possibili da prendere, che sensazioni hai? Tutte le squadre sono forti, lo sappiamo, però anche noi siamo molto forti e noi giochiamo senza paura contro chi arriva. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Sì, eccoci qui, siamo subito con Samir. Samir, ti chiedo subito quanta gioia c'è nell'aver centrato comunque un piccolo obiettivo perché era importante vincere visto soprattutto i risultati delle altre. Importante vincere sempre, indipendemente cosa fanno gli altri, però oggi ancora di più perché sapevamo i risultati delle altre squadre e noi volevamo mandare un segnale sia all'esterno che noi stessi. Viene da dire che tra l'altro l'Inter è tornata anche dove appartiene a quel primo posto in classifica che forse per il gioco mostrato, per la qualità del gioco mostrato, è anche il posto che merita l'Inter in questo momento. Sì, stiamo bene, siamo in salute, la squadra gioca molto bene e stiamo raccogliendo quello che ci appartiene, insomma, per quello che lavoriamo. Samir, tu che hai visto tante Inter, ma un Inter che gioca così bene, tra ricordi? No, questa gioca forse meglio, per quello che ho visto io. C'è Marco Andreoli che ha una domanda per te. Ciao Samir, complimenti per la vittoria, per la stagione. Cosa si può trovare? Non dico neanche di difetto, quale può essere un'imperfezione in questo momento a questa squadra perché veramente a tratti nelle ultime gare sembrate veramente quasi perfetti. Ecco, dove secondo te si può trovare ancora qualcosa da poter migliorare? Bisogna pensare che bisogna sempre cercare di migliorare qualcosa. Solo che è difficile trovarlo in questo momento, in questa Inter. Ciao Marco, ti saluto. Sì, sai dove si può migliorare? Quando mi hai fatto questa domanda ho subito pensato a Madrid. Abbiamo giocato quattro volte con il Real Madrid, anche giocando molto bene, però poi c'hai percezione che la puoi vincere ma alla fine hai sempre perso. Quindi sono queste partite, magari ci manca una partita così importante di vincerla perché giocare abbiamo giocato, tutte e due partite bene, però ci è mancato un pizzico di qualcosa che tipo Real Madrid aveva e noi no. Per questo abbiamo perso. E questo è forse un step successivo. Senni, prima di salutarti, proprio in questo senso voglio farti una domanda, ci sono i sorteggi di Champions League domani, che cosa ti aspetti, che emozioni hai? No, qualsiasi squadra sarà, noi ce la giocheremo da Inter, avviso aperto e come abbiamo fatto sempre nelle ultime gare. Grazie. Prego. Mattia, prova a riassumere in una parola quello che senti adesso. Non ci sono tante parole, diciamo che ringrazio il mister e i compagni per l'oportunità che mi hanno dato, è stato tutto bellissimo, poi davanti a San Siro è ancora più bello. Poi noi andiamo pianissimo con i paragoni, però qui già mi hanno detto di chiamarti a via Zanotti perché mi hanno detto che il tuo idolo è Pupi. Sì, è il Pupi, è bello essere paragonato a lui, però è difficile, ecco. Tra l'altro si è entrato benissimo, adesso a parte gli scherzi, parlando della partita in sé, si è entrato benissimo, hai fatto anche l'assist per la traversa di Sanchez, insomma vicinissimo anche a un più uno al fantacalcio. Lui sarebbe stato, diciamo, la ciligina sulla torta, ma comunque la serata è stata magnifica. Ti chiedo, prima di salutarti, a chi dedichi questo esordio e magari anche alla prima persona a cui hai pensato quando sei entrato in campo? Dedico, prima cosa, alla mia famiglia, che mi sono vicino, ai miei amici, a mia ragazza. La prima persona che ho pensato in campo, probabilmente, diciamo, l'esperienza che ho avuto tra il Brescia e l'Inter, che mi hanno invitato, il settore giovanile, tutti i mister che mi hanno cresciuto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine. Senti, ti avevo detto l'ultima domanda, stavo scherzando, volevo sapere anche da te che cosa ti ha detto Inzaghi, prima di entrare. Mi ha detto, sei tranquillo, fai il tuo e vai avanti, ecco. Grazie Mattia. Grazie mille a voi. Grazie a tutti.